Namaskar, mi chiamo Luna e sono un'insegnante certificata, alliata e in yoga. Mi sono approcciata tanti anni fa alle filosofie orientali perché stavo cercando un stato di pace e di essere che la vita di tutti i giorni non mi stava più offrendo. Mi sono imbattuta nello yoga e da lì è stato amore a prima vista. Ad oggi è la mia più grande passione ma non solo, è un'attitudine mentale e una vera e propria filosofia di vita. Lo yoga è un percorso di unione tra corpo, mente e spirito. Lo yoga aiuta a prendere consapevolezza delle nostre emozioni e a sviluppare un'empatia dentro di noi che poi riusciamo a trasmettere nel mondo che ci circonda perché aiuta a sviluppare in noi del rispetto e della gratitudine per quello che siamo nel famoso qui e ora. Lo yoga fisico che andiamo a praticare sul tappetino è una sequenza di posizioni chiamate asana. Asana in sanscritto significa postura comoda, conflottevole e mantenuta il più a lungo possibile. Questo ci ricorda che è la pratica che si adatta al nostro corpo e non è il corpo che si adatta alla pratica. Questo significa che le lezioni, che siano individuali o di gruppo, sono perfettamente personalizzabili in base all'età del praticante, eventuali patologie, obiettivi di rilassamento e molto altro ancora. La pratica delle asana è uno dei rami dello yoga per la realizzazione del set insieme ad altre tecniche meditative che possono essere la consapevolezza dei pensieri oppure il controllo del respiro. E' importante ricordarci che lo yoga non è giudizio e quindi non è una competizione. Lo yoga quindi è un abito fatto su misura apposta per te. Per tenerti aggiornato su tutte le mie lezioni, eventi e corsi puoi seguirmi sulla mia pagina Instagram e Facebook Yoga Con Luna oppure su mio sito web yogaconluna.com Ci vediamo sul tappetino anche online!